A sei mesi dall'ultimo terremoto, ma in realtà Castelli ne ha subiti diversi negli scorsi anni. Oggi qui comunque con il segretario Buitoni avete fatto il punto della situazione su quello che riguarda il comune castellano. Sì, assolutamente. Castelli, come diceva lei, perfettamente ha subito diversi traumi. Adesso ha bisogno di partire. È un comune che ha una tipicità dovuta alla sua storia. Quindi noi vorremmo creare un contatto diretto e anche un tavolo permanente con il MIBACT per ragionare sulle questioni di Castelli, che sono fondamentali per permettere il rilancio alla nostra comunità. Che tipo di programma avete in corso? Che tipo di programma? Io ho diverse questioni da far presente al sottosegretario. Uno su tutti è la nostra questione del museo. Noi abbiamo un museo di straordinario valore per le opere, però purtroppo è un museo civico che il comune con le risorse fa molta fatica a portare avanti. E il governo in tal senso comunque può darvi una mano? Sì, quello è quello che ci aspettiamo e auspichiamo, che si possa avere un sostegno dello Stato centrale. Di quanti fonti avrebbe bisogno comunque? Oddio, per tutte le questioni è difficile adesso quantificare le risorse, perché sono più tematiche. Il museo, il nostro liceo, la situazione delle botteghe, quindi in questo momento quantificarlo non è semplice. Castelli comunque sta cominciando a ripartire, si vede già qualcosa di positivo? Ma c'è del movimento. C'è fermento. C'è fermento, sì. Noi ci stiamo dando tanto da fare per la promozione, soprattutto per mettere in sicurezza il centro storico, per mettere le persone di venire a Castelli e stiamo mettendo in campo tante tante attività. Comunque c'è fermento, sì. E ci saranno delle iniziative estive? Sì, sicuramente ci saranno iniziative estive. La più importante è il Festival della Storia dell'Arte. Noi proprio qualche giorno fa abbiamo incassato dal professor Sgarbi il suo impegno per la direzione artistica del nostro festival, quindi riproporremo ad agosto questo evento importantissimo. Grazie. Grazie.